Allora ragazzi oggi sono andato a Milano, ho usato 20 minuti a Milano il mio record assoluto Ho ritirato gli uncut sheet ufficiali definitivi delle carte della lore Sono proprio bellissime, non ho nient'altro a dire, ci sono le holo che non hanno nessun senso E li butto dentro D.P.O Eccole Guarda questo merchandise tripla Quanto su grossi, guarda come il fiero, guarda, guarda come il fiero Ah si le carte comuni, via, va bene, via, mi voglio covinare, mi voglio covinare, ha anche la paura Eccolo vagante, con lo squisito tratto di Agneson Immagina spendere 70 euro per questa roba, immagina essere qui a scriverla e dammi soldi per le pubblicità Agneson Dario ha di bloc Te c'è il culo di un buono tappato orzughero Uuuh, uuh, uuh, uuuh, uuuuuh DONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM mmm... 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 BUUUUUUH